Ciao, benvenuta nel mio canale, io sono Anna, e in questo video ti svelerò una breve anticipazione sulla serie The Family, non dimenticarti di iscriverti al canale per non perdere i prossimi video e attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento. La vita di Leila è precipitata nel caos quando si è ritrovata in prigione come testimone dell'omicidio di suo marito Tolga. Tolga, dopo aver tradito la famiglia, è stato ucciso mentre cercava di sottrarre dei soldi all'associazione di Ulia di cui era amministratore. Il sostegno di Devin In questo momento difficile, Devin cerca di dare tutto il suo sostegno alla cognata, andando a trovarla in carcere. Leila, fidandosi ciecamente di Devin, desidera che egli prenda l'affidamento dei suoi figli. Tuttavia, Devin è in procinto di divorziare da Aslan, e non vorrebbe accettare la proposta di Leila. L'impegno di Aslan. D'altra parte, Aslan sta facendo il possibile per dimostrare l'innocenza di Leila. Con l'aiuto di Cian, Aslan ha trovato una persona disposta ad assumersi la colpa dell'omicidio di Tolga. Dopo aver catturato l'uomo e averlo convinto, Aslan ha fornito a Leila un'opportunità di salvezza. Le malvagie intenzioni di Ulia. Nel frattempo, Ulia nascondeva piani malvagi contro sua figlia. Non volendo che i nipotini, Kaya e Zeino, lasciassero la fattoria, Ulia chiese a Leila di affidarle la custodia dei bambini. Di fronte al rifiuto di Leila, Ulia fece un patto con una detenuta e orchestrò una cospirazione per impedire a Leila di uscire di prigione. La detenuta, in cambio di denaro, si ferì, facendo sembrare che fosse stata Leila a provocarle il danno. Un finale drammatico. Leila, scossa dall'evento il giorno del suo rilascio, non riuscì a uscire di prigione nonostante cercasse di spiegare la sua innocenza in lacrime. Quando Aslan scoprì che dietro a tutto c'era sua madre Ulia, impazzì di rabbia. Nel finale drammatico, Aslan, in preda alla furia, diede fuoco alla fattoria Soikan, lasciando un segno indelebile negli eventi. Questa complessa rete di tradimenti, omicidi e cospirazioni ha profondamente segnato la vita di Leila, dimostrando quanto possa essere fragile l'equilibrio familiare quando la lealtà viene tradita.